Le dirò la sincera verità La sincera verità su di me Sarà il grande Gatsby, l'adattamento in 3D diretto da Buzz Lurman ad aprire il 66esimo festival di Cannes il 15 di maggio Trofei di caccia dipingendo un po' Poi scoppiò la guerra vecchio mio Targato Warner Bros. verrà presentato fuori concorso Si tratta dell'ultima trasposizione da Scott Fitzgerald E interpretata questa volta niente di meno che da Leonardo DiCaprio Gatsby Evento questo che segna il ritorno sulla croissette della celebre star Che manca dalla presentazione e dal documentario sulla causa ecologista che ha prodotto nel 2007 Gatsby Vorrei tanto sapere chi è Che cosa fa Gatsby? Quella Gatsby? Gatsby 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 Gatsby